Luca D'Affre, tronista di Uomini e Donne, ha fatto una importante scoperta durante una delle puntate del programma. Durante la registrazione, Luca ha ricevuto la visita di una sua ex fidanzata che gli ha fatto alcune rivelazioni sconvolgenti sul suo conto. La ragazza ha raccontato di aver avuto una relazione con Luca, ma che quest'ultimo l'avrebbe tradita con un'altra donna. La rivelazione ha scioccato sia Luca che il pubblico presente in studio, che ha assistito alla scena in diretta. Nonostante la tensione, il tronista è riuscito a mantenere la calma e a gestire la situazione nel migliore dei modi. La scoperta ha ovviamente suscitato molte reazioni tra i fan della trasmissione, che si sono divisi tra chi ha criticato Luca per il suo comportamento e chi invece lo ha difeso. Al momento, non è chiaro come la vicenda andrà a finire e se avrà un impatto sulle scelte di Luca come tronista di Uomini e Donne.